Abbaia il cane mentre la tortora. Siamo nella campagna di Grassi e percorro questa strada bella strada, lo sgherruppate, sentite il battere, la signora si è baciata giustamente, dice chi c'è? perfetta natura bellissima natura, non capisco come mai questi olivi, tutta la campana ecco i mulci del Chianti grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.